Il tempo era un semplice tenente, e anche un sicario. Chernobyl, una manna per le fecce più spregevole. A dieci anni di distanza dal disastro, molti se ne servivano ancora per mettere le mani su materiale nucleare. Molti, tra cui un certo Imran Sakaev. Ovviamente dovevamo impedirlo. Soldi per barre di combustibile usato? Ecco gli ingredienti per il disastro. Fu la prima volta che il governo abolizzò un assassino dopo la Seconda Guerra Mondiale. Era sotto il comando del capitano Macmillan. Troppe radiazioni, dobbiamo fare il giro. Seguimi e mantieni un basso profilo. Attenzione, ci sono sacche radioattive in tutta la zona. Non entrare troppo in contatto, sei morto. Attendi. Battuglia nemica, dritta davanti a noi. Fai basso e muoviti lentamente. Grazie alle nostre tute non riusciranno a vederci. Noi non c'è, noi non c'è, noi patrulliamo qui, idioti. E per cui patrulliamo? Qui non c'è nessuno per 120 km. Elimina ne uno mentre l'altro non guarda. Sлушай, la Fai Fata ha un buon giorno. Buonanotte. Avanzare. Fermati. Se faremo il giro saremo più protetti. Quattro bersagli all'interno. Non pensarci nemmeno. Aspetta qui, bersaglio vicino all'auto. Eliminalo in silenzio, lascialo passare. A te la scelta. Ok. Via. Vai. Non muoverti. C'è una vedetta sul campanile della chiesa. E una pattuglia in arrivo da nord. Andiamo più in alto, la vista sarà migliore. Hai la vedetta sottotiro. Stai cercando nel campanile sbagliato. È quello a destra. È nel campanile. Plendido. Bersaglio in arrivo da nord. Eliminalo in silenzio, lascialo passare. A te la scelta. Bersaglio abbattuto. Via. Area frontale sicura. Ok, via libera. Hai sentito? Elicottero nemico, sta giù. Sta tornando indietro. Non muoverti. Rimani nell'ombra. Andiamo. A terra, ora. Calma, amico. Sono in troppi. Lasciali passare. Mantieni un basso profilo e non sparare. Cerca di prevedere i loro spostamenti. Se devi aggirare un ostacolo, fallo lentamente a passo regolare. Amico. ove. Grazie a tutti. Ok, andiamo. Piano e con calma. 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 Aspetta calma. Aspetta calma. Aspetta calma. Non ci ha visto nessuno. Piano e con calma. Non ci siamo ancora. Aspetta calma. Aspetta calma. Attenzione. Attenzione. Aspetta calma. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attendi il mio segnale. Bersaglio acquisito. Identità confermata. È Imran Zakaev. Fermo così. Bersaglio abbattuto. Credo abbia perso un braccio. Bel lavoro, tenente. L'abbiamo preso. Merda, arrivano. Elimina quell'elicottero. Io cercherò di guadagnare tempo. Bel colpo, tenente. Ora andiamo. Verranno a cercarci. È ora di muoversi. Dovremmo prendere una scorciatoia. Seguimi. Tenete Price. Seguimi. Delta 2-4, qui Alpha-6. La nostra copertura è saltata. Ripeto, la nostra copertura è saltata. Ci dirigiamo verso il punto di estrazione 4. Alpha-6. Perdi l'arrivo. Tempo stimato 20 minuti. Chiate puntuali. Abbiamo poco carburante. Passa e chiudo. Lasciali perdere, altrimenti rimarremo indietro. Andiamo al punto di estrazione. Bersaglio neutralizzato. Bersaglio neutralizzato. Bersaglio neutralizzato. Visi di inch pancia. Bersaglio abbattuto. Aspetta. Aspetta. Piazza una Claymore alla porta qui di fronte. Abbattuto. Altri alle spalle. Elicottero in arrivo. Elimina quel bastardo. Price, spara all'elicottero. Lo abbatteremo insieme. Sogni d'oro, bastardo. Oh, merda. Corri! Merda, non riesco a muovermi. Se finiamo nei guai, dovrai trovarmi un buon posto da dove io possa coprirti. Il punto di estrazione è a sud-ovest. Se faremo in fretta, arrivaremo in tempo. Dai attenzione. Vorizio. Anna si準備i sinistri, mi sono stato spotili. Svegli lavigia offices. Aspetta a pesc subway dei messi. Svegli la madre. Svegli la sinnfera, chiottero, mor Construzione. criti. Grazie. Versaglio neutralizzato. Altri in arrivo da nord. Meno uno. Direi che l'area è sicura. Meglio muoversi. Vai verso quell'appartamento. Dissemineremo lì dentro. Sì. 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 Aspetta a ingaggiare. Apri il fuoco. Meno uno! Versaglio abbattuto. Versaglio neutralizzato. Abbattuto. Attento! Meno uno! Versaglio neutralizzato. Elicotteri nemici in arrivo! Meno uno! Meno uno! Meno uno! Siamo in seria difficoltà! Dove siete? Regio neutralizzato. Arriberemo il primo possibile. Resistete! Versaglio abbattuto. Versaglio neutralizzato. Versaglio neutralizzato. Versaglio neutralizzato. Versaglio neutralizzato. meno uno abbattuto bersaglio abbattuto meno uno preso meno abbattuto Preto. Sguardo alto, abbiamo poco carburante, avete 30 secondi. Fai attenzione! Fai attenzione!